icon palestre a monte silvano il nuovissimo centro fitness in via ruffilli 1 icon palestre aperto sette giorni su sette con icon palestre avrai tutto il fitness che vuoi da soli 19 90 euro al mese vuoi noleggiare un'auto pronto rent l'auto noleggio vicino casa tua guida sicura e senza problemi i buffi sono come i pensieri più sono grandi e più ce ne frega niente